E salve minuti in questo nuovo episodio di Call Duty Breakouts Ok, dobbiamo prendere l'ind Hai visto quei l'ind? Parintiamolo! Certo Szepleni non stabilizzate se hai dato Avagini! Crabci che ho preparato una vernazia in base Messo, appena sei pronto spara Vabbè Prendi la mia Prendi la mia Prendi la mia Non devono arrivare a quella di tagliatrice Corri Corri E' la mia La mia bene facciamo volare quest'uccellino oh si facciamo macello oh yeah vai su uzz madonna uv32 assegnati cannone da 12 mm assegnato ma non è giusto non puoi guidare teios fare basta ogni nemico è un bersaglio valido chiaro abbiamo le coordinate del complesso di kravchenko seguiamo il fiume fino in fondo chiaro passami i comandi tutti i tuoi tieni d'occhio il terreno non facciamosi sparare nel culo ha detto il fiume il fatto è un attimo anche che devo vedere un attimo un obiettivo che avevo che devo fare c'è un obiettivo di percorso riguardo al fiume che cos'era allora vediamo un po' ehm eccolo qua no no ghost ehm brecoz sapete che ho i trofei o uguale di brecoz e ghost tutti e due a 24 per cento di operati di operati di prati insomma allora abbiamo un po' un po' un po' i doppiarmi ok devo usare solo i razzi e il capo di prigionia vabbè non uso i missili vai così boom ok 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 a 4 ok ok perché roma e vai su miss a cavolo di elicottero di merda vabbè se la dita io ho davanti ok dai vai su vai su se questo coso non va su non lo becca odio i limiti che hanno la mira infallibile si beccano una sfida con i razzi soltanto bella sfida dai beccalo 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 si ma si vuole così tanto beccano con i razzi ma forse lo teli più dati ti metterai meno proprio una sfida aerea si 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 muori ok resta vicino al fiume vittorio peccate d'albero non mi piace si guarda ma questo ponte è chiuso si va giusto il ponte che nebbia tranquillo tranquillo ahia siamo morti? si ok uno è andato portaci via da qui ma c'è l'altro ma c'è l'altro sposta questo male del tappare Oh no Due elicotteri cazzo Oh no Due elicotteri cazzo E mi arrivo con ieri Cazzo 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 Così Hanno messo male molto male Almeno spero che poi il trofemo lo da per tutto questo che sto facendo Senza usare la mitra di viattrice Cavolo Veramente se non ne vale la pena E Dissoluti per la seconda volta Cazzo 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 Dissoluti per questa cosa fa quello di non essere morto. Gli ho sparato abbastanza misi da di studio un'elicottero e si sono anche uniti. Fusione elicottero. Andiamo, andiamo. Sì, ce l'hai morto. Eh, se ce la faccio, guarda i cremissili. Ok, vai. Volare, ammazzare, oh, no. Sì, ma non è morto. Via, 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 via. mancato dai dai non posso fallire però è emozionante è una me sfida si no è ancora andato ti prego si alleluia si anche se ho messo tre ore il complesso di Kravchenko è poco più a sud sto andando su quello spiazzo e quindi abbandoniamo un elicottero? direi di si si la pistola si facciamo casino ma nel prossimo episodio si danni estremi ce l'ho fatta il trofeo l'ho preso è rimasta la pena quindi ragazzi vi vediamo alla prossima ciao ciao ciao